Tutti ai posti di combattimento, motori a massima velocità, attacca il punto C, rumone a babordo, si signore, divare a babordo, nave da pattuglia, 2-2-0, 5.000 metri, posti di combattimento, nemico avvistato, attaccare il punto B, affermativo Incrocciatore da battaglia, 2-0, un rinamento Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille 2-2-0, 7.000 metri Mori a babordo Si signore, divare a babordo Bersaglio individuato 2-2-0, 5.000 metri Bersaglio individuato, nave da battaglia 2-2-0, 8.000 metri 1-2-0, 9.000 metri Porni 5-1, 8.000 metri 6-2, 1.000 metri Perfino attacchi! ...d'acqua di battaglia... ...quanto può fare... ...in un'unità libera... ...densata mortina... ...quasi continuo... ...dipone a tri-bordo... ...sì signore... ...in area di go... ...densata mortina... ...dipone a bordo... ...dipone a bordo... ...dipone a bordo... ...sì signore... ...inhala il pagone... 5.000 metri Gol, fuor di restito Un posto di morto Timone, tutto a bordo Sì signore Qualcuno lo attacchi Timone, a mezza nave Timone a mezza nave A mezza nave Infruttatore, 286, 2000 allegri. Venito a perdita. 3.000 metri qualcuno lo attacchi il minuto si inclina controllo dei danni per riparazione delle parti nuotare gli scompartimenti allagati rimone tirare tutto a trivordo tutto a trivordo, sì signore controllo dei danni alle squadre anti-ingegno controllo degli scompartimenti in fiamme navi in vantaglia bussola 2, 2, 3 le forze deliche hanno conquistato una zona vantagga il punto si timone a mezza nave timone a mezza nave, sì signore il coronatore da vantaglia bussola 1, 2, 0 2.000 metri guarda, guarda, guarda il deposito di punizioni è il fiamme non ci siamo il nemico ha preso l'iniziativa controllo dei danni alle postazioni bersaglio individuato incrociatore legge 2.000 metri nemico colpito 5.000 metri 4.000 metri 5.000 metri in un inquinario 30 velocità nemico colpito infrociatore della battaglia 2.000 2.000 metri 5.000 metri Noi! Timone, tirare tutto a tribordo Tutto a lavoro Sì, sì Nave da battaglia Non posso essere Ma finalmente Timone, a mezza nave Timone a mezza nave Sì, signore Nave da battaglia Posto, numero 80 2000 metri Timone a bordo Pericolo di alto profondo avanti Posto stretto Tutto a bordo Tutto a bordo Sì, signore Andiamo subito avanti Informatore da battaglia 4.000 metri Attaccare il punto G Iniziare l'attacco Nemico Destrutto Pensando Attaccare il punto C Attaccare il punto A Promonto Upload Siamo stati quelli di sotto da un ingeggiamento. Fodori al reddito stare! Mori a mamordo! I mori a mezzanare! Mori a mamordo! Mori a mamordo! E' il giro da mi chiede! I mori a mamordo! I mori a mamordo! Sì, a mezzanare! Andate! Sì, a mezzanare! Il rito si inclina! E ferme velocità, nemico distrutto, nemico colpito! Oggi abbiamo subito da di 13! Controllo dei danni per riparazione delle parti! Vuotare gli scompartimenti allagati! Ha ha! Oggi abbiamo subito da di 13! Riparare le parti! Iniziare il controllo dei danni! Costanzioni e eliminazione! Abbiamo subito da di 13! Sì, Sì, Sì! Abbiamo subito la fiducia! Colto! Per un taglio individuato! Incrociatore da battaglia! Per un taglio individuato! Incrociatore da battaglia! Un taglio individuato! Un taglio individuato! Non è possibile! Il taglio individuato è un taglio individuato! Quasi colpito! Incrociatore da battaglia! Un taglio individuato! Un taglio individuato! Un taglio individuato! Non bisogno dei danni per riparazione delle parti! Fuotare gli scompattimenti allagati! Iniziamo! 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 Partiamo per il modale di trecchi! Ah! E' un'altra colpita! E' un'altra colpita! A un'altra linea degli alleggiamento! Persegno colpita! Rilevato! E' un'altra colpita di tutto il movimento! Duamente, in mezzo, Attacco! A un'altra! Es 파ton c'è il mondo il Maggiore! E' un'altra! E' un'altra! E' un'altra! E' un'altra! E' un'altra! Qui sotto la galleta! E' un'altra! A tutto l'equipaggio, abbandonare la nave! Continuiamo a fare pressione, la vittoria è vicina! Fantastico! Grazie a tutti! Buon bambini. Avanti. Vengono. In attizionamento. Posti di combattimento. Divino a distanza. Per lo stagio individuato. Buon bambini. Due, sei, zero. Vengono. In scuola, ma bordo. Sì, sì. In attizionamento. Vengono. Un scuola di bordo. Un scuola di bordo. Vengono bordo. Sì, signor. Sì, signor. Un scuola di bordo. Vengono. Mezzanato. Mezzanato. Sì, signor. Sì, signor. Rimone a tribordo. Rimone a tribordo. Rimone a tribordo. Abbiamo subito danni critici. Abbattilo. Controllo dei danni per riparazione delle parti. Vuotare gli scompartimenti allagati. Rigenuta. Felicolo di acqua e bordo. Profondi avanti. Fotori. Arredo totale. Sì, signor. Ancora un piccolo sforzo. E la vittoria sarà nostra. L'anima battaglia. Rossa. Rengono. Rengono. 5.000 metri. Felicolo di acqua e bordo. Profondi avanti. Nemico, orbita. Fotori tutto a soffa. Siamo stati colpetti sotto la linea di chiedeggiamento. Le forze nemiche hanno conquistato una zona. Postazione di riparazione. Inclinazione di rinchiata a bordo. Nave in campione. Controllo dei danni per riparazione delle parti. Svuotare gli scompartimenti allagati. Incendio. Trista allagate. Controllo dei danni alle squadre antincegni. Controllo dei scompartimenti in fiamme. Apporto l'accipato. Abbiamo giusto i soldati in califici. Incrociatore leggero. Fusca. 2, 0, 0. 5.000 metri. Apporto del spazio. Stati di riparazione. Stati di riparazione. Stati di riparazione. Stati di riparazione. Missione Avomniani. M-c-completata! ura